Sarà una commissione d'inchiesta a ricostruire gli 11 anni di vita del Creaf, dal 2005, quando fu acquistato l'immobile di Via Galcianese, al 2016, quando la società, dopo aver speso 22 milioni di finanziamenti pubblici, ha alzato bandiera bianca e ha portato i libri in tribunale. Lo ha deciso la commissione consigliare controllo e garanzia che ieri si è confrontata con il sindaco e presidente della provincia, chiamato a spiegare il tracollo del centro di ricerca e alta formazione, oggetto di un'inchiesta della procura che al momento conta tre indagati. Senza giri di parole, Biffoni ha parlato di danno per la città grosso come una casa. Nel 2005, quando tutto questo è partito, un gruppo dirigente intero aveva deciso di provare a offrire alla città, alle nostre imprese in particolare, un centro di ricerca come ce ne sono molti a giro per la Toscana e per l'Italia. Era un'idea, secondo me, che aveva una forza, soprattutto in un momento in cui si profilava una crisi che poi abbiamo conosciuto. Il percorso però è stato, per usare un miofimismo, accidentato. Noi abbiamo deciso di chiudere i finanziamenti, il rubinetto di finanziamenti, nel momento in cui non c'erano le condizioni per poter aprire in tempi rapidi, ma soprattutto senza avere un piano industriale della società. Il destino del CREAF è a un bivio. Sarà il tribunale a decidere se l'ultimo tratto di strada porterà al concordato liquidatorio o al fallimento. L'ultimo bilancio della società ha un attivo di poco inferiore a 10 milioni e un passivo di quasi 11, a cui aggiungere altrettanto per effetto delle richieste della Regione che pretende la restituzione dei finanziamenti. Sono soldi pubblici, ci vuole rispetto sempre, perciò bisogna essere assolutamente e totalmente trasparenti. Se si fosse potuto aprire, se non si fosse chiesto ulteriori soldi ai soci pubblici e si fosse potuto aprire, l'effetto domino sarebbe partito. Ma certo se per aprire bisognava ulteriormente investire soldi della gente, io non me la sono sentita. Il presidente della Commissione Controllo e Garanzia ha ribadito a più riprese che... Se le responsabilità penali possono andare in prescrizione, noi dobbiamo occuparci delle responsabilità politiche. E le responsabilità politiche non vanno in prescrizione, devono emergere. Ci dovranno dire tutti coloro che hanno avuto a che fare con il CREAF, ci dovranno spiegare il perché tanta foga e tanta voglia di andare avanti in un progetto che fin dai primi anni si era rivelato un buco nero dove finivano molti soldi pubblici.